Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Senza parla molto grande, ringraziamo veramente il signore Rackles che io andò a trovare all'ingrata perché si è stabilita già un'amicizia affettuosa proprio tra uomo e uomo. Ringraziamo Barbara D'Urso, strappata dalla sua maternità affettuosa e pigra che è venuta a trovarci e noi non possiamo che dirgli, come si dice, arrivederci presto anche se lo spettacolo è uguale, più uguale è meglio è perché qualcuno non l'ha visto. Cari amici, noi siamo veramente felici di trovarci qui in Italia, noi abbiamo visitato più di 30 paesi, ma un pubblico così comprensivo, così cordiale, così preparato, non l'abbiamo ancora mai incontrato. Ciao Italia!